A pochi passi dal mare, in uno degli scenari più famosi d'Italia, dove Sicilia e Calabria quasi si toccano, il centro formativo Unaosi di Messina è in posizione strategica per gli studenti che frequentano l'università cittadina, in particolare per chi segue i corsi accademici di medicina, veterinaria, farmacia e lettere. Queste facoltà sorgono a poca distanza dall'edificio Garden House che ospita il centro, così come l'ospedale cittadino. La struttura, suddivise indestabili, è costituita da unità abitative di diversa tipologia, con 25 posti letto totali. All'interno, camere single e doppie, spazi cucina, sala studio polivalente. Tutti gli ambienti sono ovviamente coperti da collegamenti Wi-Fi. Nel centro, gli ospiti possono contare su servizi di pulizia degli spazi comuni e degli alloggi e servizio biancheria per i letti. Sempre disponibile anche un servizio di tutoring, un aiuto prezioso per supportare ragazzi e ragazze nello studio e migliorare i propri risultati durante gli anni accademici.